Io non sono il tipo che ama spiegare le proprie opere o che pensa che debbano avere, per avere valore chiaramente, debbano avere bisogno di un ulteriore supporto che è quello della spiegazione. Parlarne sì, chiaramente. Spiegare una cosa come una poesia, la spieghi, magari uno la capisce musicalmente, va bene così, invece la distruggi, siamo innamorati, guardiamo un panorama, lo dobbiamo spiegare, ci perdiamo il panorama. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia ha regola d'arte. Bentrovati o bentornati a una nuova puntata di Al dente, in questo caso puntata speciale, e poi capirete perché, oggi parleremo di comunicazione, parleremo di creatività, parleremo di arte, ma adesso capirete di più, presento subito Iago ai nostri microfoni. Ben arrivato. Grazie mille, grazie. Allora, di fianco a me siamo in tre e questa formula l'avete già vista in una puntata precedente. Fabrizio Foresio, voce di eccellenza italiana, co-founder di eccellenza italiana e professore di storia dell'arte. Ciao a tutti. Ho detto tutto bene? Tutto, tutto. Non mi sono dimenticato nulla. Anche troppo, no, no, va bene. Allora, partirei subito dalla presentazione, ho detto solo Iago, molti, tantissimi ti conoscono, altri tra il nostro pubblico magari ti conosceranno meglio oggi. Creativo, scultore, come ti definisci? Potevo mettere altri termini? Meglio non mettere niente, perché poi quando fai un elenco può essere anche limitante, no? Invece uno, perché voglio, evitando, come dire, le etichette, domani se cambio idea non c'è il problema, no? Quindi non sarò, non soffrirò il problema di essermi identificato in qualcosa a tutti i costi. Allora domani posso cambiare idea. Sicuramente scultore, perché, come dire, è un mestiere, è una cosa che la posso descrivere come attività, quindi mi occupo di quello. Poi, vivendo oggi, anche di tante altre cose. Vorremmo partire subito da una citazione, perché noi ovviamente ti conosciamo, ti abbiamo inseguito, tra l'altro, per essere qui ai nostri microfoni. Bene. E io, in particolar modo, ti ho anche un po' studiato, curiosato un po', quindi avremo modo di affrontare varie cose, vari argomenti. Partiamo con una cit, Fabri. È una cit tua che parla di fallimenti e del bisogno per fare scultura prima di rompere, giusto? È quello con cui tu ti presenti sulla tua pagina ufficiale, quindi volevamo chiederti quali sono i tuoi fallimenti, quali sono i fallimenti di cui parli e se ci vuoi spiegare un attimo meglio questo concetto. Probabilmente quella che avete letto è una frase d'effetto che è stata selezionata. No, diciamo che c'è chiaramente un contenuto di verità che mi accompagna nella mia quotidianità, nel lavoro che faccio. Rompere qualcosa è alla base del mio gesto creativo per fare scultura. Evidentemente, effettivamente, ovviamente, devi rompere partendo da qualcos'altro. Che magari è stato a sua volta rotto perché stava dentro una montagna. E quindi lì, diciamo, in questo senso è molto interessante perché ti confronti con un meccanismo che ti ricorda che oggi soprattutto non puoi tornare indietro, no? O meglio, nel mio campo non puoi tornare indietro, ma di solito c'è il CTRL-Z, voi conoscete molto bene, fate editing, potete cambiare. A livello grafico, certo. E così, con il marmo non lo puoi fare, quindi io sicuramente devo fare i conti con il fatto che posso sbagliare. E il fallimento è una componente fondamentale di questo processo, quindi ogni errore che capita è uno step, un passo in più verso questo traguardo che poi è l'opera finita. Quindi questi sono i miei fallimenti, diciamo. Da quanti anni fai fallimenti? Mettiamola così. Non ho mai smesso, quando ho iniziato a camminare cadevo e mi rialzavo, quello era un fallimento, però mi rialzavo, quindi diciamo lo stesso metodo lo applico oggi, insomma, senza problemi. No, a parte gli scherzi, da che età hai capito che, insomma, il mondo dell'arte, questo tipo di settore, mondo, sfera, potesse essere la tua? Cioè, dove hai trovato, c'è stato un episodio in particolare, c'è stato qualcosa che ti ha fatto dire, questo è il mio mondo, questa è la mia vita, per farlo diventare la mia vita. C'è sempre stata una predisposizione, cioè le materie artistiche, quindi il disegno per esempio, no? E il genio, il modo in cui il genio degli altri si manifestava mi faceva sognare la possibilità di potermi avvicinare in qualche modo. Cioè, il mio godimento non era nell'osservare la grande opera o il grande gesto, ma nel potermi immaginare capace di poter fare quel gesto. Quindi, nella mia mente, io mi riproducevo in grado, mi sostituivo addirittura. E questa cosa mi avvicinava, anche se poi non facevo effettivamente quello, ma immaginarsi in quella condizione è stato il primo passo. E ci sono delle cose che evidentemente mi hanno dato più soddisfazione in questo meccanismo di immaginazione, come la creazione artistica. Quando per la prima volta ti trovi davanti a una grande scultura, accompagnato dai tuoi genitori, lì tu riconosci negli sguardi degli altri lo stupore, per esempio. Allora puoi associarti a quello stupore, oppure dire quanto sarebbe bello, no? Essere colui il quale è in grado di produrre quello stesso stupore negli altri. Quindi là si innesca un meccanismo. Questo certo può essere assecondato dal contesto. Quindi, o sei in un contesto favorevole, oppure te lo devi andare a cercare il contesto favorevole. Io per fortuna ero bro come il marmo, quindi comunque ho seguito la mia strada. Questa modalità si è manifestata sia, per esempio a livello sportivo anche, cioè facevo la stessa cosa, con la musica. Dico un esempio sullo sport? Il calcio. Io paragono spesso come uno è nello sport o come è nella vita. Dico una cosa che farà ridere, ma se giocavo a calcio, dico devo essere il migliore perché devo competere, perché voglio godermi il risultato al suo massimo livello. Questo mi ha portato a stare in panchina perché mi piaceva fare i giochi, i giochetti come chiamiamo il doppio passo, perché ero molto individualista. Quindi comunque è tutta una scuola, però era quello il meccanismo, la mentalità, ma non perché ci fosse un desiderio egoico di stare al centro delle cose, di essere il migliore o primeggiare sugli altri. Non c'era questo, c'era il fatto di voler diventare la migliore versione di se stesso, cioè io voglio essere io. E certamente posso partire dai passi degli altri per trovare i miei, dalle parole degli altri per trovare le mie, dai grandi gesti degli altri per trovare i miei. In fondo, come dire, anche in scienza, le grandi conquiste, a volte diverse, così lontane, messe insieme attraverso il filtro delle proprie emozioni personali, possono diventare una nuova formula rivoluzionaria. E quindi, proprio in questo senso, quando si parla di ispirazione, imitazione, che poi il genio altro non è che imitazione di un genio prima di lui, no? Se proprio vogliamo parlare di arte. Ci sono state in particolare delle opere d'arte o degli artisti che anche quando eri a scuola, quando eri ragazzino, ti hanno ispirato in particolar modo? Tutti quelli che hanno usato, che si sono sbilanciati, che sono stati imprenditori, cioè che hanno costruito un sistema che era in grado, attraverso la propria opera artistica, artistica di dare, di diventare supporto per altri, no? E creare, gemmare, no? Nell'intelligenza e nel genio degli altri. Questi mi hanno affascinato, mi affascinano tuttora le cose che superano la prova del tempo e sono poche, ok? E oggi lo capiamo molto bene, c'è questa obsolescenza, produrre contenuti su contenuti su contenuti, ma cosa rimane? Allora, la domanda è, cosa stiamo facendo? Cosa è destinato a rimanere? Questa conversazione, questo podcast, quanto a lungo il suo eco continuerà, no? A riverberare nella memoria delle persone. Questo non lo sappiamo, non lo possiamo misurare, ma possiamo partire, no? Con l'idea di voler fare una cosa capace di superare la prova del tempo. Quindi, a me emozionavano questo tipo di persone. E ce ne sono tante. Tutte quelle di cui l'italiano si vanta quando va all'estero. Lì tu capisci qual è veramente la cosa che a livello artistico, culturale ha sedimentato e che fa la nostra cultura. Se vai all'estero, di che cosa ti vanti, se vuoi? Ecco, quelle sono le cose che veramente fanno radice. E visto che noi ci vantiamo veramente di tante cose, giustamente, da italiani, no? Beh, ci chiamiamo eccellenza italiana, ma perché ne abbiamo tante. Ma questo è un titolo rischioso, per esempio. Molto. Il titolo a me mi imbarazza, devo dire. No, non dovrebbe. Perché noi ci vantiamo di tante cose che sono quelle, poi, che portano l'Italia come paese principe in diversi campi, prima di quali la cultura. Allo stesso tempo, però, da paese principe siamo anche un paese che va in fondo, secondo me, alla gerarchia di quelle che sono le nazioni che veramente trattano bene la loro cultura. Oggi è molto difficile in Italia, per esempio, vivere di arte e di cultura. È difficile avvicinare i giovani all'arte e alla cultura. Secondo te c'è qualcosa che si potrebbe fare per avvicinare i giovani? C'è qualcosa che andrebbe fatto in modo, in generale o nello specifico? Qualcosa che vuoi dire? Prima non era più semplice vivere d'arte. Nel rinascimento, ancora prima, ma anche dopo, tu che insegni storia dell'arte, cioè i grandi maestri che hanno fatto delle cose e sono stati determinanti, penso a un Canova, un Canova che aveva da bambino, se ne parte da Possagno, un paesino, va a Roma, capisce che deve fare rete, no? E quindi crea delle dinamiche di relazione con personaggi importanti che chiaramente lui parte da una capacità e si dedica a quello come nessun altro, cioè alla totalità della sua vita, la sua unica amante è stata l'arte, il suo lavoro, la sua benegazione. Però capisce che deve fare struttura e così riesce ad imporsi e a fare con grandissima difficoltà tutto quello di cui noi ci vantiamo oggi. Ma in quello stesso periodo, sai quanti altri artisti vivevano, facevano, tentavano, amavano, odiavano, invidiavano? Che cos'è che gli mancava rispetto a Canova? Che gli mancava? La passione sicuramente no, probabilmente la capacità di legare, come dici tu, no? Di crearsi una rete che poi è atta a darti anche la vita, al mangiare. Il talento ce l'avevano. Certo. Cioè se tu vedi, nello stesso periodo c'erano personaggi che avevano una capacità meravigliosa, ma quello non basta, non basta. La capacità di entrare in empatia emozionale. No, parlo di capacità proprio manuale, di realizzare qualcosa, di fare... Sì, sì, no, parlo di che cosa gli mancava. Ok, siamo ancora fermi lì. Eh, non basta quello. C'erano che è stato un imprenditore. Cioè aveva una predisposizione al rischio, aveva la capacità di interagire con gli altri, si dedicava al voler dare qualcosa. Sapeva che poteva essere risorsa, diventare, in relazione ai propri traguardi, diventare risorsa per altri. Adesso io ho fatto un esempio perché prima c'era una foto qua. Sì, tra l'altro abbiamo delle foto, ma poi capirete. Sì, e quindi questo è il senso. Non basta il talento, che poi il talento è una cosa misurabile, cioè una cosa che si può misurare, bisogna vedere come la usi. Quello non basta, c'è bisogno di tutt'altro. Per imporsi, eventualmente. Altrimenti, insomma, se uno è felice va bene lo stesso, qualsiasi cosa. Com'è misurabile il talento? Poi andiamo a parlare invece, perché noto che hai dei concetti molto profondi, anche molto ricercati, quindi ci tengo a capirli di più. Ah, grazie. No, no, a capirli di più. Nel senso che ti soffermi molto anche da quello che ho avuto modo di vedere sul web, anche sulle parole, su... Dai molto peso, no? Quindi com'è misurabile, secondo te, il talento? Nell'arte, soprattutto. Ma sai, il talento... E' anche un po' da esterno, no? A questo mondo. Il talento è una cosa materiale, come soldi, diciamo così, per banalizzare senza andare proprio alla radice. E dipende da come lo usi, quindi noi pensiamo che sia una cosa astratta. Se tu riconosci di avere un talento, quindi di avere una capacità naturale, che può funzionare bene in un determinato ambito, puoi fare tre cose. Puoi startene a casa, chiuso nelle tue mura, ad esercitarla, perché un giorno succederà qualcosa. Qualcuno ti chiamerà, perché tu ti stai esercitando. Puoi non esercitarla per paura di perderla, perché dici se faccio qualcosa la perdo, non mi contamino, così. Oppure puoi fare, chiaramente, l'unica cosa che veramente si dovrebbe fare quando si ha talento, quando si ha una risorsa che sia naturale, economica, no? Di valore in generale, misurabile, che è investire. Ok? Quindi se tu riconosci di avere un talento, devi investire. Per investire poi devi avere una predisposizione al rischio. Questa ce l'hanno gli imprenditori. Ok? Quindi se eserciti tutto questo, se capisci che c'è questo meccanismo, lo metti in moto, e nella tua quotidianità ti lasci accompagnare da tutto questo, rischi di ottenere un risultato che è traducibile come la tua felicità personale, il fatto che non dovrai lavorare per alienare il tuo tempo in cambio di uno stipendio da spendere in quello che si chiama fine mese, fino settimana, fine anno, vacanze, eccetera, eccetera, o nella benzina per andare a fare lo stesso lavoro, e quindi potrai organizzare la tua vita sapendo di poter essere o voler essere risorsa anche per gli altri. E non c'è niente di male comunque ad essere anche volendo dipendenti, che siamo tutti dipendenti da qualcosa. Stai parlando un po' anche di quello che sei riuscito a fare tu, no? Sto parlando della predisposizione al rischio, del fatto che se vuoi avere un certo livello di libertà poi per rispondere alla tua domanda, puoi costruirti. Noi possiamo riprogrammarci, diciamo così. Quindi puoi costruirti. Poi dipende da te, sei una cosa molto personale. Oggi va di moda, si apri internet, tutti devono fare gli imprenditi, imparati, investiti, non è vero, c'è una grande dignità nel lavoro, dobbiamo tornare a saper fare delle cose, ok? Perché domani si spegne la luce. Che c'abbiamo? Ah, avevo scaricato un libro online, un audiolibro, e poi non c'è una libreria a casa. Avevo tanti selfie, poi non ti si è stampato una foto. Quindi un pochino, diciamo, ritornare, fare un passo indietro per farne due avanti. Beh, il saper fare è un concetto proprio che ci piace ribadire, saper fare italiano, all'interno di questo podcast, che è al dente, ma poi in generale sui canali. T'ho demoralizzato. No, 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 sono pensiero. Non sono pensiero, no, 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 lo state notando voi che guardate il video. No, invece io vorrei parlare un po' della tua formazione per capire il personaggio, l'artista, come è uscito fuori, dove è partito e come è uscito fuori poi, brevemente. Perché hai capito che se no mi dilungo, grazie. No, no. Cerco di stare dentro alcuni dei tempi, immagino. Sicuramente che poi abbiamo altri temi da cercare. Come è partito? Io ho frequentato, vengo da un piccolo paese che si chiama Anagni, dove vive ancora la mia famiglia, a cui sono profondamente affezionato. E lì è stato il luogo della mia prima espressione, diciamo così. Il piccolo paese è un buon luogo dove iniziare, perché hai la possibilità di trovare il tuo palcoscenico invece di stare in fila nelle grandi città per fare X Factor. Lì tu ce l'hai le tue cose. Quindi quasi quasi acceleri anche i tempi e sei anche accompagnato da un desiderio di emergere, quasi di riscatto, di devo, voglio andare nel mondo. Quindi questa roba, come dire, mi ha accompagnato finché il primo luogo che ho frequentato, che è da qualche chilometro di distanza dal mio paesino, è stato prima di tutto il liceo artistico che ho frequentato a Frosinone. Probabilmente dei cinque anni ne ho frequentati tre, gli altri ho marinato la scuola. C'erano due biblioteche a Frosinone che ho frequentato quelle. Ma sai perché? Perché il mio problema è che quando tu riconosci, come dicevamo prima, che magari sei predisposto in una determinata direzione, soffri. Perché se il mondo ti dice no, devi fare questo, 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 perché le pari opportunità, perché chiaramente ti ha dato accesso a tutta una serie di privilegi perché vivi in questo paese e quindi è importante fare tutto, c'è anche da dire che io ci stavo bene dentro. Una perdita di tempo? Sì. Immagino. Sì, perché volevo fare altro, sapevo di dover fare altro e quindi ero accompagnato quotidianamente da questa profondissima frustrazione e quindi mi costringevo a stare un po' alle regole e di certo non ero assolutamente un buon esempio, anzi, tutt'altro, non so come dire, la firma di mio padre e di mia madre la sapevo fare meglio io che loro e quindi questa... però... Vedo un Fabrizio... Sì, scusa. No, no, no. Non è un suggerimento per i tuoi studenti, Fabrizio. Non lo diciamo. No, anzi, invece dopo ho altre domande. No, perché a volte se uno che magari ha un piccolo risultato nella vita ti racconta che ce l'ha avuto ma magari immarinava la scuola e face sembra la licenza ad uccidere, no? Quindi ti dico ah, lui ha avuto un risultato quindi lo faccio anch'io. No, non è così. Per te è stato così. Non è così, anzi, studiamo, andiamo a scuola. Per rimanere su questo tuo essere fuori dagli schemi, un po' sopra le righe, no? Un po' ricorre o è ricorso nell'opera che ti ha più di tante altre dato, diciamo, la fama sui social, sui media, al grande pubblico che è quella dove tu hai spogliato il Papa che è un po' una seconda opera, giusto? Perché non lo sapesse è stata proprio la rappresentazione di Papa Ratzinger che poi al momento del suo lasciare il soglio pontificio è stato spogliato dal qui presente Iago dell'abito papale. È un po' ritornato uomo, no? Da quella creatura semidivina che è la considerazione e poi del Papa, giusto? Ci puoi parlare di quest'opera, della sua genesi? No, ero un ragazzino e per una serie di situazioni mi ritrovavo a realizzare questo ritratto che doveva essere un ritratto istituzionale da posizionarsi in un luogo che era in fase di ristrutturazione. Quindi, figuratevi, io avrei fatto sarei stato commistente di me stesso pur di confrontarmi con una possibilità del genere e io realizzo il primo il primo ritratto che viene presentato poi a questa sorta di commissione e non piace il ritratto. Questo è un fallimento, no? O meglio, non è che c'è l'entusiasmo vedi quando non c'è l'entusiasmo dall'altra parte. Io pensavo di aver fatto a parte non mi piaceva neanche a me quindi come dire però non lo accetti. L'opera non piacque e a me neanche perché doveva essere un ritratto istituzionale io non avevo alcun grado di libertà cioè deve essere così fatto in questo modo quindi va bene. Però io me la prendo comunque quella libertà e bucando bucando forando gli occhi e facendo una citazione di un grandissimo maestro della tradizione che io ho amato profondamente che si chiama Adolfo Wilp ai Musei Vaticani ci sono opere come a Galleria d'Arte Moderna a Milano lui ha insegnato anche a Brera quindi credo sia stato anche maestro di Lucio Fontana per un periodo quando Fontana ha studiato e tu mi correggerai perché poi io posso dire delle cose assolutamente continuo sto imparando e quindi quindi lui aveva questo modo di aprire di forare di forare gli occhi per me era un gesto che dava profondità uno sguardo che semplicemente nella sua rappresentazione scultoria così formale che avevo realizzato mancava di quell'ombra di quella profondità che quello sguardo invece in qualche modo raccontava quindi invece nel momento in cui buco gli occhi poi sai i buchi non torni indietro quando io presento l'opera finita con gli occhi bucati mi viene chiesto se glieli riempi noi la accettiamo e ho detto no come avrebbe potuto fare questi no questi rifiuti così hanno caratterizzato molti momenti della mia vita quindi chiunque tutti quelli famiglia amici hanno detto ma come rinunci ad un'occasione del genere è un piccolo gesto riempi io non l'ho fatto e quindi mi son tenuto l'opera che poi fu esposta in diverse occasioni e poi fu premiata fu premiata per dal papa nel premio delle pontifici accademie e davano questa medaglia pontificia e in realtà io non ho era tipo un concorso io non mi sono neanche iscritto sono stato iscritto e praticamente devo recuperare la memoria perché queste sono cose che non pratico nella mia quotidianità queste storie insomma l'opera vince a me faceva cagare cioè probabilmente brutta cioè non mi piaceva e e quindi qual è la cosa simpatica dell'aver vinto questa questa medaglia questo riconoscimento era che in realtà all'inizio quando l'opera venne vista la prima volta mi venne detto al papa non è piaciuta mi ho detto vabbè è lecito qual è il problema e per questo poi non ho riempito gli occhi se non è piaciuta che gli riempio a fare per metterla comunque non va così me la son tenuta e fatto sta che poi venne premiata lì scoprì che in realtà non l'aveva mai vista e quindi andò così io tenni l'opera dopodiché fu esposta alla biennale che allora si chiamava lo stato dell'arte a palazzo venezia e poi poco dopo successe che il papa si spogliò e mio padre mi mandò questo messaggino mi ricordo facevo una mostra non mi ricordo dove il giorno del disallestimento mio padre mi mandò questo messaggino il papa si è spogliato lì c'è stato il momento in cui io chiaramente sai il messaggio giusto al momento giusto ha detto adesso ho l'opportunità per fare una cosa che è molto più in linea con il tempo che sto vivendo perché intanto era andato avanti quella era una cosa del passato in fondo quando è che un'opera è finita ritoccare rilavorare quell'opera distruggerla voleva distruggere uno l'attaccamento a quella roba perché quando tu vinci un premio te lo metti sopra il mobile sta lì prende polvere e come dire l'immagine di una memoria che non c'è più ma che stai facendo oggi ok quindi a me quella roba non piaceva era una cosa che mi interessava e in secondo luogo mi dava la possibilità di portare il lavoro come fosse stata una tela bianca a livello a un livello che mi riguardava che era quello che vivevo adesso perché quando la vedevo dico ma io non sono quello quella roba non mi piace non voglio essere riconosciuto per questa roba qua mi ha schifo quindi ho fatto alto e allora forse l'unica cosa veramente interessante di questa opera è il video perché in quel momento storico nasceva il social network quindi rispondeva a una mia esigenza fare un video ovvero raccontare accedere al dietro le quinte della creazione perché quello che manca che è mancato e che mancherà sempre a me rispetto ai grandi maestri che ho amato è vederli lavorare cioè amerei vedere un timelapse della realizzazione che ne so con le daf non lo so qualsiasi cosa ma non ce l'abbiamo quindi dobbiamo immaginare perché qualcuno l'ha studiato lo racconta ma viene tutto qui dentro non lo sappiamo quante maestranze c'erano quello che succedeva allora ho detto faccio un video e il video probabilmente è quello che ha reso celebre il lavoro perché racconta il gesto perché tu in un video vedi una cosa che è compiuta finita e poi succede qualcos'altro ti identifichi con quell'immagine e poi ti chiedi ma io avrei fatto una cosa del genere con il marmo non puoi tornare indietro insomma passano tutta una serie di suggestioni che a livello di comunicazione sono interessanti io queste cose che sto dicendo adesso neanche me le immaginavo a quel momento in quel momento avevo solo il desiderio di testimoniare quel gesto è stata un'intuizione credo felice l'ho capito dopo il valore come spesso succede tu sei molto umile quindi fatichi a premiare i tuoi gesti anche solo a livello creativo te lo dico io da appassionato di arte nel mio piccolo il gesto di spogliare il papa a livello ideale chiamare la scultura bemus hominem in opposizione alla bemus papa un classico è proprio un qualcosa che unisce l'antichità al moderno che poi è secondo me anche la forza della tua arte il crossover l'unire un medium che è antico che resta che sarà immortale con delle idee che sono molto attuali e contemporanee quindi visto che tu sei molto umile te lo dico proprio io da appassionato questa è una grande forza grandissima forza e l'intuizione felice della bemus hominem è stata soltanto una delle altre se posso chiederti se c'è un'opera che tu ami in particolare tra quelle che hai prodotto come se dovessi fare un parallelismo il gesto della creazione per me vale tanto quanto quello del mettere al mondo un figlio quindi qualcosa che parte da un'idea un desiderio si trasforma in un gesto comporta un doversi dedicare a qualcosa amarlo quindi li amo tutti in questo senso perché c'è la paternità dell'opera una cosa che esiste come esiste la paternità nei confronti sono sicuramente come genitore quindi come generatore dell'opera e sono così profondamente affezionato ad ognuna ma mi innamoro per ognuna dell'idea che possano fare la loro strada cioè quello che auguro alle opere è quelle di diventare il più possibile diverse da me perché io inevitabilmente divento diverso da loro però me ne prendo cura e quindi costruisco tutta una serie di cose le amo le amo ma come sono capace anche di innamorarmi della diversità che è quella che gli altri mi corrispondono con le loro creazioni perché riconosco qualcosa di mio cioè come un bambino come fai a non innamorarti di un bambino quindi qualchiunque crea in maniera pura in qualche modo io ne subisco il fascino e non riesco non posso non innamorarmene però mi fanno anche incazzare come figli c'è nel senso nel senso no non lo so non sono un padre quindi posso riconoscerlo attraverso gli occhi dei miei genitori o dei genitori degli altri insomma non è facile essere genitori questo lo posso immaginare però sì sono innamorato riconosco l'importanza di ogni opera se oggi sto facendo una cosa di un certo valore che mi entusiasma tipo la prossima opera che farò io devo ringraziare devo amare il percorso che c'è stato tra cui quindi tutte le opere che ho fatto dalla più bella alla più brutta stanno insieme e partecipano in maniera uguale al percorso visto che fai questo parallelismo tra le opere e i bambini no facciamo allora anche noi nove mesi per un bambino invece per un'opera quanto passa e come funziona il processo dodici nove sei creativo anche più dall'idea diciamo alla creazione poi sì ma non sia diverso da opera il marmo dice no immagini no immagino sia diverso diciamo il processo e vada opera opera l'immagine è diversa ma il processo può essere anche lo stesso da un punto di vista formale tecnico nel senso magari confrontandomi con il lavoro oggi è devo essere in grado di presentare un progetto quindi fissare l'idea su carta evidentemente e dopodiché produrre un manufatto un primo manufatto che può essere un piccolo bozzetto per bloccare l'invenzione perché è lì che capisci le dinamiche a livello tridimensionale poi da lì una volta che hai capito quella è l'invenzione produrre un modello a grandezza naturale che è l'opera quindi fare un po' in argilla in questo caso come faccio di solito devi fare il calco e e produrre un manufatto che è in in gesso quello rimane quindi quella è l'opera effettivamente poi c'è la traduzione in marmo che è un processo lungo che può essere di nove mesi o più dipende dall'opera dalla tipologia dalla difficoltà e in quel processo succedono altre cose quindi sicuramente il prodotto finale non è come il prodotto quello del modello perché io vado ad aggiungere altre cose sul marmo ci sono delle cose che non faccio in argilla che sono inutili e le faccio sul marmo le indago sul marmo tipo ne so la pelle o altre cose altri vezzi altri giochetti estetici molto inutili probabilmente che riguardano il mio linguaggio però è un processo lungo e affascinante perché ogni volta la tua idea si trasforma e si arricchisce non solo del tempo della tua crescita personale ma anche del fare del gesto facendo delle cose uno impara e cresce questo è molto interessante bello e visto che tu ami sicuramente riprodurre figure umane quando scolpisci ci sono altre figure in particolare che ti piace riproporre visto che hai fatto anche tanti oggetti di veramente tipologie varianti sono profondamente interessato al corpo umano perché qualcosa come immagina l'arte come un linguaggio quindi io non sono il tipo che ama spiegare le proprie opere o che pensa che debbano avere per avere valore chiaramente debbano avere bisogno di un ulteriore supporto che è quello della spiegazione parlarne sì chiaramente spiegare una cosa come una poesia la spieghi magari uno la capisce musicalmente va bene così invece la distruggi siamo innamorati guardiamo un panorama lo dobbiamo spiegare ci perdiamo il panorama però si può anche fare nessuno lo esclude cioè chi vuole farlo lo può fare per me non può essere così non mi riguarda quantomeno questo per dire che il corpo umano è come una parola in un vocabolario e io so che voi lo conoscete ok quindi quando se scolpisco una mano non è che ciò bisogna spiegare più di tanto fra 200 anni quando scaveranno sotto terra e un bambino la ritroverà potrà dire mamma una mano perché probabilmente non ci sarà nessuno se io ci ho dato un altro significato lì a spiegargli di che cosa si tratta questo mi dà conforto evidentemente ma poi soprattutto il corpo è una scusa attraverso il corpo io posso dire tante altre cose semplicemente una cosa che conosco alla quale mi sono dedicato è un ingrediente che mi piace usare perché non mi pare di aver esaurito la sua indagine è qualcosa che mi riguarda profondamente su cui io ho lavorato e che penso che si possa strumentalizzare magnificamente per dire tante cose del mondo che viviamo del mondo che potremo vivere o che abbiamo vissuto che ci possa insomma aiutare a capirci meglio a volte quindi e poi perché mi entusiasmava ecco se devo dire una cosa semplice quando ero molto piccolo mi entusiasmava la capacità disegnare una mano per esempio è una delle cose più difficili che c'è perché è la cosa più plastica che abbiamo è anche più sensuale conosciamo il mondo con le nostre mani quindi io ammiravo la capacità di chi sapeva disegnare una mano sembra il riassunto di un corpo infatti le prime cose che ho fatto in scultura sono state delle mani perché avrei voluto tanto dire guardate se avessi un blocco tanto grande sarei capace di fare un corpo però faccio una mano così almeno tu dici a questo ragazzo se gli diamo un blocco più grande sicuramente ci tira fuori qualcos'altro allora ho fatto delle piccole mani e lì ho capito che c'era una predisposizione insomma c'è talmente tanto da dire che non mi sento così geniale così capace forse di poter inventare qualcosa l'ho sempre pensato non ha ragione e invece credo che sia molto bello poter dire delle cose che arrivino all'altro vi dico c'è una grande soddisfazione quando una certa categoria di persone che arrivano che ne siamo in museo oggi ti dicono guarda io non ci capisco niente di arte però ti volevo dire che mi sono innamorato delle cose che fai capisci vuol dire che lì tu sei andato oltre cioè la tua opera non aveva bisogno di giustificazione di niente è bastata un'immagine su internet per creare un senso di comunione di riconoscenza a tal punto da far salire in macchina quelle persone andare alla sanità a Napoli partendosene da Milano tanto spesso dall'estero per vedere una cosa che lì evidentemente li riguarda a me in quei momenti capisco che a me dell'arte sinceramente è un cazzo nel senso che non ho il bisogno di dover per forza riconoscere a me stesso sto facendo l'arte sto facendo la scultura che io sia riconosciuto come artista perché tutto quello è già completo quindi ti centra come cosa e allora ti tranquillizza anche rispetto a quella che può essere la tua mira di volerti sentire in un certo modo con l'etichetta come dicevamo all'inizio sul petto parlando di corpo umano adesso torniamo un po' agli studi hai dovuto studiare anatomia quanto è importante conoscere avere una conoscenza profonda del corpo copiare anatomia rubare l'anatomia in ogni momento quando ci siamo presentati ci siamo stretti la mano quando parlate quando sorridete le microespressioni che vi caratterizzano ma si io sono sempre in questa dimensione quindi non c'è niente e perché comunicazione questa non solo le cose che dite ma anche il modo in cui le dite il modo in cui guardate il modo in cui inclinate la testa il modo in cui sei così atteggiato alla curiosità in questo momento evidentemente e magari anche la tua testa sta andando altrove perché ti devi preparare rispetto a quello che verrà partecipare a tutto questo coglierlo per me è molto affascinante sono fatto così quindi non posso sottrarmi a questo meccanismo e mi piace molto quindi pensare di riuscire a tradurre tutto questo in un'immagine questo è il potere che è riservato mi permetterete di dire all'arte quello di essere anche capace di riassumere tante cose in un'immagine che potere c'è quando parliamo dobbiamo spiegarci e questo è un problema è anche magnifico però io ti devo spiegare delle cose perché le parole che utilizzo quel contenitore tu ci metti le tue cose c'è la tua memoria là dentro ci sono le tue emozioni quindi di mio ti arriva il suono di quella parola con l'immagine è un po' diverso è tutto molto più tutto molto più molto affascinante vai dalle tue parole voi usate le parole quindi quindi il discorso vi dicevi che ero in fase di curiosità l'hai colta che l'ha comunicato ma sai perché le parole sono degli strumenti e io utilizzo degli strumenti quando scolpisco voi che cosa fate quando con un podcast voi vi occupate di scultura il vostro materiale qual è? il materiale umano che sta là dentro dall'altra parte vi dovete preoccupare di questo sapete perché? perché per fare scultura non basta avere gli strumenti buoni sul tavolo ecco c'ho la gradina si chiama così in scultura il martello che mi serve per scolpire questo assolutamente può essere un giusto strumento come le parole che tu hai a disposizione nel tuo vocabolario ma se io non mi preoccupo di capire che tipologia di materiale ho di fronte a me che marmo c'è io magari ho gli strumenti del marmo ma di fronte a me ho l'argilla perché non mi sono preoccupato di capire che c'era argilla di fronte a me avrei dovuto usare altri strumenti sono inutili questi con l'argilla viceversa gli strumenti quindi le parole adatti all'argilla sono inutili sul marmo si rompono e se usi degli strumenti sbagliati sul marmo magari crei delle crepe con la forza sbagliata con l'intenzione sbagliata con cui usi le parole gli strumenti puoi creare delle lesioni che non si vedono ma stanno là dentro e quante volte ci ritroviamo a dire scusa ho sbagliato sì certo beh la lesione sta là però ok quindi ecco per comunicare bene bisogna prima sapere ascoltare quindi voi sicuramente lo sapete molto bene il soggetto fondamentale è stato all'altra parte dello schermo se non ascoltiamo se non capiamo che tutto questo è merito dell'altro se esiste è inutile che esista ok quindi prima il materiale prima andate in cava a bussare a sentire si dice si bussa sul marmo si sente perché se c'è una lesione suona diversamente il materiale si tocca questa è argilla allora devo usare questi strumenti e così si fa nella comunicazione se non ascoltiamo il nostro interlocutore vogliamo lì metterci sul podio della nostra consapevolezza a dire le nostre cose perché abbiamo così questa urgenza di posizionarci ai suoi occhi stiamo lì un'ora a parlare poi era cinese abbiamo usato le parole sbagliate ecco quindi l'altro deve venire prima se si vuole comunicare se no si parla come si fa tutti i giorni tu prima parlavi del rione sanità a me interesserebbe molto sapere visto che non so quanti del pubblico lo sanno tu lavori molto all'interno del rione sanità o meglio il tuo studio ti è stato donato all'interno del rione sanità sì ci ho vissuto per un periodo importantissimo per un altro periodo del covid quindi una fase magnifica tornando da new york durante il covid hai vissuto a new york ero sì a new york poi tornato in italia sono stato a napoli a napoli ho vissuto c'era sempre il covid nel rione sanità dove poi ho lavorato nello studio che oggi è museo all'interno del quartiere nella basilica di santa spreno ai crociferi quindi come dire è un'avventura un'avventura magica di quelle che soltanto a napoli puoi immaginare vere ecco e napoli napoli il quartiere sanità sono stati fondamentali nella mia vita oggi figuriamoci oggi è il centro dei miei interessi dei nostri interessi è lì è a napoli dove la soddisfazione più grande più quella mia personale di poter fare le cose in un luogo che è meraviglioso anche se non lavoro più fisicamente nel quartiere perché il mio studio si trova adesso all'interno del porto nei cantieri del Mediterraneo dove ho delle come dire un contesto che mi facilita il lavoro la mia soddisfazione più che per le mie opere è quello di andare su google vedere i commenti e scoprire che si parla molto poco delle mie opere ma invece ci si rivolge con applausi meravigliosi ai ragazzi della nuova cooperativa alla sorte che sono il vero fiorare l'occhiello dell'occasione espositiva e che accompagna i visitatori nel tour che è una cosa meravigliosa ecco questa è una cosa che mi dà veramente soddisfazione perché sono delle eccellenze dei leader giovanissimi soprattutto del territorio quindi questo è il bello di agire in un determinato luogo perché scopri che la tua opera può generare altro cioè se tu fai qualcosa chi mi diceva prima qua c'è la fondazione che che in un quartiere in un contesto arriva quel valore e partecipa a tutto un meccanismo di possiamo dire di riqualificazione di amplificazione di certe dinamiche e quindi c'è più attenzione sul territorio e si genera tutto un meccanismo molto positivo quindi quello del garage guadagno quello del bar anche il ragazzo che non magari non sa che il lavoro fa nella vita e fa cose di ogni di ogni tipo si ricorda che c'è una casa sfitta e apre un bed and breakfast per dire quindi questo succede è un modo interessante per vedere in che modo io posso partecipare alle dinamiche di un posto e proprio per partecipare alle dinamiche di un posto l'arte molto spesso ha un merito quello di cambiare il luogo in cui agisce ci sono state delle tue opere che purtroppo hanno subito atti vandali ci parliamo più in particolare di quella Roma e di quella Napoli prima prima di quella Roma come reagisci quando succede qualcosa a tuo figlio perché alla fine l'arte tua se l'è meritato ma come se l'è meritato se l'è meritato sai se tu lasci un figlio per strada devi fare i conti col fatto lo sai che può succedere qualcosa quindi come dire sei a posto in quel senso sei responsabile quindi devi costruire nessuna di queste operazioni è stata fatta in maniera illegale c'erano sempre tutti i permessi di sorta quindi se succede qualcosa al tuo figlio cerchi di indagare e capire nella maggior parte dei casi di tuo figlio se ne esce rinforzato un bambino un ragazzo che sta dentro casa nel ventre un ventre di vacca e c'ha chi gli fa la lavatrice chi gli fa la spesa chi gli fa la colazione pranzo cena è pronto vieni fai di là come dire non si forma non cresce diciamo potrebbe se questo non è assecondato dalla famiglia perché ha le proprie preoccupazioni perché gli sta bene così dovrebbe farlo da solo credi mettiti in difficoltà perché ne esci arricchito la mia opera ne esce arricchita oggi mi piacciono di più hanno una storia da raccontare si sono arricchite delle storie delle persone che hanno partecipato sia con le carezze sia con i calci sia con le catene con la distruzione poi io personalmente anche faccio una riflessione che è quella di tu che fai un gesto posizioni un'opera in un ambiente pubblico ma ti chiedi che cosa può generare quella penso sempre alla vecchietta che esce che si affaccia alla finestra comunque tu che sei abituato a guardare un panorama domani viene Jacopo perché vuole farsi fare l'applauso per dire quanto sei stato bravo guarda che bravo che sei un'altra medaglia al valore però ti devi chiedere in che modo tu influenzi la vita degli altri quelli che sono abituati a vedere le cose in un certo modo questo lo devi lo devi mettere lo devi mettere in conto perché certe cose possono essere amate di certe cose ci si può innamorare altre possono essere ovviamente disprezzate quello che tieni tra virgolette giusta come? no ritengo ovvia il fatto che dei ragazzi io che cosa posso fare posso fare che magari come è successo a Napoli ho invitato ho rintracciato quei ragazzi non è stato facile li ho invitati in studio e gli ho mostrato dei ragazzi magnifici e gli ho mostrato che cosa vuol dire costruire fare scolpire in questo caso e mettergli sul piatto della bilancia i due gesti loro conoscevano il gesto che hanno fatto non conoscevano l'altro quindi oggi sanno conoscono tutti i due gesti per distruggerli ho fatto vedere che è un attimo ma che io non sono diverso da loro anche io per creare devo rompere ma decido come rompere in che misura e con quale tecnica farlo e allora puoi anche creare distruggendo è una scelta ma il gesto è lo stesso può avere lo stesso valore se io mi fermo non sei un editore ma io c'è un'esperienza molto educativa questa figura tipo forse ho imparato più io che loro alla fine vabbè com'è andata poi bellissimo sono venuti in studio è stata una cosa una cosa meravigliosa non si sono sentiti stavano un po' in imbarazzo chiaramente ma figurati io braccio bacio tutti quindi non c'è stato nessun problema poi si capisce subito se hai l'intenzione di metterti in cattedra per insegnare qualcosa figurati io il giorno prima della comunione ho dato fuoco a una palma a Nanni ho fatto delle cose veramente partivo dalla cattedrale dalla bicicletta senza freni perché volevo vedere se per inerzia arrivavo fino a Porta Cerre che si trova dalla parte opposta senza mai pedalare o frenare quindi sono stato come dire uno scalmato questo sono due che mi vengono in mente così ma ho fatto la qualunque quindi io sono l'ultima persona proprio sulla faccia della terra che può dire a uno ci si comporta così non lo posso fare però posso immaginare di dire c'è un valore in quel gesto vabbè abbiamo capito che per legge tu hai fatto una cosa sbagliata ma c'è qualcosa che andando a vedere tirando togliendo il superfluo come si fa in scultura io tolgo c'è una radice di sentimento di bellezza di necessità perché questi magari hanno fatto un video perché hanno fatto un video hanno fatto un video perché volevano comunicare probabilmente avevano un'idea diversa hanno proiettato quel gesto in una dimensione di applauso piuttosto che di strumentalizzazione da parte di una politica per bene che vuole dire ah ecco adesso è il momento giusto per dire come si fanno le cose quindi una politica perché poi in generale la politica di tutti quelli che agiscono e che strumentalizzano le cose che succedono per poter dire io so come si fanno le cose le cose si fanno così ci si comporta così e invece no perché nell'intimità dei nostri bagni noi siamo veramente nel nostro intimo non lo diciamo a nessuno quello che pensiamo e facciamo è così allora io mi riconosco nel gesto di quei ragazzi essendo chiaramente capace di poter fare una cosa del genere però posso scegliere allora poter dire guardate ragazzi voi avete fatto quello anch'io sono capace di farlo però scelgo di fare lo stesso gesto che è lo stesso identico lo mostro faccio anche peggio ma fatto in un certo modo in maniera ripetitiva con un certo tipo di visione puoi creare un'opera d'arte la puoi vendere puoi guadagnare puoi creare tutto per i gesti sugli stessi capito vabbè ti ha soddisfatto la risposta assolutamente un'analisi di realtà che è successo assolutamente ma anche proprio per il fatto di cui parlavi tu che un'opera d'arte acquisisce una storia esattamente come le persone vive determinate situazioni determinati gesti e a volte quei determinati gesti fanno parlare a voce ancora più alta quella che era la tua intenzione quando l'hai scolpita io parlo ad esempio nello specifico dell'opera romana che tu avevi scolpito si chiama io sono flagello no io sono pronto al flagello perché citava il bel Bernini in flagella parato sono pronto al flagello e rappresenta un naufrago visto che oggi è un tema ovviamente molto attuale quello dei migranti delle tragedie dei naufragi e quindi magari di quest'opera e di questo tema si sarebbe parlato un pochino meno se l'opera non fosse stata vandalizzata giusto quindi quest'opera in particolare avrebbe parlato a voce molto meno alta e questo non è un invito a vandalizzare visto che prima parlavamo non lo è ma dice una cosa assolutamente giusta perché se succede una cosa come come quella tu ti arrabbi no e inizi a fai un post un bel post su internet dici guarda che cosa hanno fatto oppure la strumentalizzi come si può fare e la utilizzi per continuare a raccontare una storia oggi devo dire la verità se quei ragazzi non avessero rotto preso l'opera non l'avessero rotta sarebbe rimasta solo la mia opera quella diventa la nostra opera in qualche modo è uscita fuori dal mio controllo è diventata qualcosa che ha intercettato il desiderio di comunicare no il proprio punto di vista anche di altri che l'hanno fatto con i loro strumenti con la loro con le loro prospettive con le loro capacità e a me hanno dato un'opportunità quella di poter tornare creativamente su quell'immagine per capire e per tentare di dire una cosa in più partendo dal loro gesto come posso continuare a creare valore quindi quell'opera era fatta in marmo nero per esempio un marmo nero che viene da colonnata si chiama Nero Cattani e praticamente mancavano delle parti quindi innanzitutto il fatto che il marmo nero esiste in Italia quindi anche il colore nero ha diritto di cittadinanza sta colonnata cresce là secoli quindi comunque non l'ho importato e poi con le parti mancanti con lo stesso marmo proveniente dalla stessa cava ma una vena bianca quindi il marmo bianco ho ricostruito le parti mancanti quindi tolto il primo titolo che era sono pronta al flaggello cosa che è successa su quel ponte oggi si chiama integrazione ma non perché voglio fare il figo ma è semplicemente il gesto che ho fatto ho integrato le parti mancanti però nel modo in cui lo fai possono avvenire puoi aprirti ad una riflessione nuova quindi quella che tu vedi è un'opera compiuta l'immagine è la stessa è fatta di due marmi che vivono che nascono assieme dallo stesso posto hanno colori diversi ma fanno la stessa montagna non è che la montagna è uguale sono vene che si muovono hanno la loro funzione naturale e in questo essere diverse però fanno la montagna che tutti noi difendiamo proteggiamo che amiamo e che vogliamo essere rispettata quella montagna è bianca e nera e allora io ci ho messo il marmo bianco perché era quello che mancava quindi io li ringrazio quei ragazzi perché non avrei avuto questa non ci sarebbe stata questa riflessione una delle cifre veramente forti della tua arte è proprio questa reazione alle cose che succedono tanto nella vita di tutti i giorni quanto nella vita politica quanto alle azioni dirette sulle tue opere d'arte esattamente come il papa che viene spogliato e in questo caso hai mai in un impeto d'ira danneggiato tu stesso le tue opere d'arte visto che Michelangelo ai tempi ad esempio in un impeto d'ira danneggia la pietà rondanini che poi diventa un'opera d'arte assoluta anche per questo danneggiamento guarda non è ancora successo cioè io mi hai impeto di dire poi impeto d'ira misura meno un attimo perché tu che intendi per impeto d'ira anche solo quando ti arrabbi un po' più del solito lanci un martello esatto allora non ho mai lanciato un martello perché perché mi è capitato per altre per stupidaggini di avere degli scatti di mi sono sempre fatto male ok quindi ho detto sai che c'è meglio non fare gestisco in un altro modo meglio non fare non sono tanto capace poi tra l'altro devo dire la verità anche perché ho fatto pace con me stesso un senso d'accettazione molto veloce sai l'accettazione è quella cosa quella roba che ha a che fare col tempo ti lascia fidanzata piangi poi piangi per una vita poi piangi per un mese per un altro quando lo accetti tu superi quella cosa lì ma se hai una questione di tempo puoi essere anche istantaneo allora se ti eserci tu puoi essere istantaneo vuol dire diventare insensibile praticamente agli occhi degli altri ho già accettato il fatto che mi hai lasciato no non voglio dire questo ma non sono tanto capace a a quel tipo quel tipo di gesto anche perché sai io li faccio in continuazione tiro in continuazione martellate quindi sfogo e basta e poi sbaglio in continuazione ma sbaglio sempre meglio non sbaglio tanto da generarmi quel tipo di di reazione e poi ho sbagliato dando una martellata anche prima l'ho data quindi come dire ho sfogato mentre ho sbagliato evidentemente doveva succedere questo mi è capitato anche di che si sono rotte delle cose ma non per causa mia quella cosa lì per lì mi è dispiaciuto però poi ho capito ho detto vedi la si è rotta ma io non avrei avuto il coraggio di romperla è anche meglio adesso ecco quindi succedono anche queste cose perché se il marmo si rompe mentre lo lavori tu devi come agisci il blocco ovviamente non si butta meno che non sia una rottura incredibile il marmo oggi è più facile vedere all'interno del marmo capire cosa c'è dentro e se ci sono delle lesioni dei peli chiamiamoli così delle cose dove il marmo non è saldato o c'è stato sai la montagna c'ha dei movimenti quindi quello poi con le pressioni con le pressioni si risalda ma comunque è fragile ci sono dei cristalli dentro quindi tu lo puoi vedere lo puoi vedere meglio di un tempo una volta ti arrivavano i blocchi squadrati in cava dai cavatori che erano vedevi sulla superficie non leggevi era difficile leggere le crepe perché c'erano i segni degli scalpelli non è che come oggi te lo tagliano te lo lucidano quindi con l'acqua metti in evidenza tutto quasi fosse una radiografia questo non lo potevi fare o lo facevi prima lo facevi era molto banale come cosa quindi te ne rendevi conto dopo che c'era una crepa quando l'opera già più o meno c'era quindi lo vedi ma non mi è mai non mi è mai successo nella pietà devo dire no questa è una cosa nella pietà per esempio ci sono ci sono delle crepe sono delle delle dei movimenti della montagna dei peli sono tre che corrono lungo la superficie non li vede nessuno ma le gambe sospese del corpo della figura sorretta dall'uomo quelle hanno una vena che è un pelo se gli tiri un pugno quella viene via adesso l'abbiamo detto in live domani si presenta qualcuno che gli tira un pugno per vedere quella si apre proprio normalmente e tu vedi come se fossero state incollate e è capitata quel pelo è capitato sulle due gambe sospese quindi tutte e due di fatti la cassa quando la portiamo in giro è studiata perché possa sorreggere negli spostamenti e tenere ancorate le gambe che in caso di cedimento di rottura per una vibrazione per qualsiasi cosa non cadono sulla scultura a terra ma rimangono legate attaccate no io tornando a quello di cui parlavamo prima parlando anche di titoli di opere nel processo creativo il titolo è l'ultima cosa o la prima cioè come viene definito il titolo è sicuramente parte no come fosse una piccola specifica non c'è di solito c'è l'idea e quindi chiaramente c'è già un titolo grosso modo poi lo puoi affinare lo puoi depurare ma nel mio caso nel mio caso c'è c'è da subito perché so quello che voglio fare quindi chiaramente pensandoci ancora prima di fare l'opera cioè diciamo se lavoro 18 mesi su una scultura ci sarò arrivato il secondo mese diciamo capito una maggior parte dei casi lo so subito lo so subito qual è perché quella roba quella roba partecipa invece per il nostro pubblico che come definivamo prima è curioso è giovane magari molti si stanno approcciando a questo mondo a questo settore per avere successo qualche consiglio da dare tu? io non lo so che cosa vuol dire definiscimi successo successo vuol dire trasformare la propria passione in lavoro quindi non è che intendi questa è una mia idea di successo poi ovviamente può essere soggettiva no perché tanti di quelli che magari il successo lo interpretano come essere famosi no avere quindi dice una cosa come trasformare una cosa concreta sì come trasformare possono essere anche semplici consigli da dare a chi si sta approcciando a di base dedicarsi alle cose che si amano quindi fermarsi un secondo e fare un ragionamento sano su se stessi e chiedersi ma cos'è che veramente in che cosa mi sento di potermi esprimere al massimo indagare no se stessi con grande onestà con grande onestà al di là di quello della preoccupazione di quello che pensano gli altri no del voler dare a tutti costo un'immagine di un certo tipo di sé preoccuparsi delle aspettative che gli altri hanno su di te che possono essere anche i genitori no che sai che hanno investito fatto e non vuoi tradire la loro fiducia eccetera eccetera così come gli amici a volte no o il semplicemente il contesto del paese in cui vivi dire semplicemente ma in che cosa io mi esprimo al mio massimo livello cos'è la cosa che amo investire nelle proprie passioni nel proprio no nella propria predisposizione naturale è la cosa più importante questo non significa che tutti lo scoprono nell'immediato a volte devi fare un percorso fatto di tante prove che il mondo te le regala te la regala questa opportunità per magari innamorarti di qualcosa ma in ogni caso investire su se stessi quindi studiare leggere ecco una cosa che posso dire bisogna leggere ogni giorno io vorrei leggere molto di più molto di più molto di più cerco di farlo in continuazione ecco Michela lo sa che la mia vale pure quanto parto vado in giro la mia metà della valigia mi devo portare per no piuttosto che averli sul cellulio non li riesco io devo avere il libro no materiale bisogna bisogna leggere no perché noi pensiamo con le parole che ci abbiamo quindi questo è molto importante e poi perché perché se leggiamo noi viviamo le vite degli altri a 10 euro 15 euro che fai la vita di qualcun altro il sunto del massimo della sua conoscenza e ci possiamo riprogrammare in questo senso perché quante volte si sente io sono fatto così ma tu non sei fatto così tu ti stai costruendo in questo modo la mia verità è questa io so riguarda me chiaramente figuriamoci che il pensiero può produrre delle parole parliamo di pensiero di qualità quindi se tu fai un gesto quel pensiero di qualità che hai che può essere un progetto lo puoi trasformare già in un'azione che è una parola le parole che producono se insisti nelle parole azioni perché le traduci l'azione che cosa produce un'abitudine e l'abitudine se tu insisti in quell'abitudine che cosa produce il carattere e se tu insisti nel tuo carattere che cosa produce il tuo destino noi siamo il nostro pensiero quindi una persona che pensa no ma io non posso è difficile è sbagliato rimane lì allora se noi non agiamo ci sarà qualcuno che lo fa al posto nostro se vuoi puoi può essere riassunto cercato io in una frase di risumare un grande concetto se puoi fai se vuoi no anzi se vuoi puoi se vuoi fai cioè fai perché c'è ci sono due macro categorie chi fa e chi si lamenta basta ti fai una passeggiata per strada oppure ti guardi allo specchio questo noi già ogni giorno riflettiamo io dico noi e mi sbaglio perché sono certo che voi non siate così però io lo riconosco in me stesso che tante volte si manifesta questa cosa allora io faccio male che va fallisce ma tra due milioni di fallimenti sono stati necessari per arrivare a fare la cosa giusta ok quindi tra una mia opera e l'altra ci sono infiniti fallimenti opere non fatte progetti mai realizzati enormi anche economicamente roba che uno può crearsi delle aspettative immaginare cose cose veramente gigantesche che magari domani si sciolgono e non si fanno però il mio atteggiamento quello è quello di dire meno male che è successo perché tutto quello che di fantastico succederà non sarebbe successo se questa cosa non si fosse realizzata in questo modo quindi ecco questo non ho una ricetta però questa cozzaglia di roba che ho detto come dire è vicina al mio modo di fare secondo te a livello mondiale l'Italia come è messa a livello di se esiste un posizionamento di scuola anche di scultori italiani non so se Fabrizio vuole aggiungere qualcosa l'Italia l'Italia è un paese di una fortuna incredibile cioè noi abbiamo una ricchezza in uno spazio anche contenuto in un giorno puoi andare in montagna puoi andare al mare puoi fare esperienza dei sapori quindi esercitare la tua capacità di godere dei sapori a un livello che è impossibile altrove perché non c'è quella concentrazione quella concentrazione di bellezza di cose ora come nelle più belle favole qua succede come a Natale che ti fanno i regali quando ti fanno il regalo il maglione non te ne frega niente perché tu te l'hanno regalato quindi molto spesso capita che proprio perché tu ce l'hai non lo vedi quella roba là ecco perché viaggiare oggi che si può fare è anche più facile va bene perché se fai un'esperienza vai fuori dove ci sono realtà in cui le persone sorridono e credono che stanno nel posto più bello del mondo ci stanno perché sono loro i loro occhi il modo in cui vivono quel luogo che lo rende il più bello del mondo ok io credo che noi siamo fortunatissimi fortunatissimi e questa grande fortuna della qualità della vita che possiamo fare intesa come la roba che abbiamo ereditato in termini di bellezza di possibilità di cultura questa roba va sicuramente protetta perché ci riguarda e poi va annaffiata va annaffiata perché altrimenti si inaridisce e proprio perché noi abbiamo ereditato tutto questo è difficilissimo innovare perché siamo accompagnati da questa idea di avere fatto tutto abbiamo tutto quindi chi fa una cosa nuova è soggetto ad una critica infinita ma questa è la storia di tutti gli imprenditori di tutti quelli che fanno imprese di tutti quelli che innovano perché chiaramente rompono un equilibrio fondamentale il primo luogo tornando ai ragazzi a cui dare un consiglio dove si deve agire per cambiare le regole del gioco è quello con se stessi quindi se uno esercita il proprio subconscio a dire sta in squadra con me e allora potrai fare qualsiasi cosa perché nel momento in cui ti viene un'idea folle tu stesso sarai il primo a supportarti altrimenti darei retta a quello nel momento della condivisione cosa da fare veramente con le pinze ti diranno no ma lascia perdere perché proietteranno su di te le loro preoccupazioni e le loro incertezze invece visto che tu hai parlato di approcci diversi utilizzi molto il linguaggio nel tuo linguaggio cioè proprio la semantica della parola come qualcosa che si deve imparare no? che vorresti dire nel senso che tu citi molto l'evoluzione di quello che può essere un approccio alla vita e sicuramente tu l'hai avuto nelle tue esperienze all'estero tanto tu dicevi che hai vissuto tanto a New York sei stato anche in Cina Cina giusto e come come è cambiato stamattina stavo a Londra per esempio sono distrutto sarei curioso di sapere prima di tutto l'approccio verso l'arte in paesi come la Cina e poi quanto hai inciso questo nel tuo modo di approcciare l'arte nel tuo percorso proprio di umano o di scultore la Cina l'ho girata in tre anni l'ho fatta avanti e indietro è stata tutta mi sono anche innamorato perché ho visto delle cose ho capito anche che la comunicazione che ci arriva questo lo capisci ma poi in giro non corrisponde minimamente alla realtà del luogo zero zero e quindi ridi quando parlano sta qui parla i cinesi fanno non sappiamo niente un po' talmente grande è lì che cosa ho visto per esempio nelle accademie ne ho girate tante anche tu sono minoranze etniche sono luoghi meravigliosi vedi delle cose umane delle manifestazioni di umanità spettacolari e fai scuola quindi nelle scuole mi incuriosiva come si studia la lingua tutto in piedi si ripete il fatto di dover memorizzare un suono che corrisponde poi a un simbolo se tu ti manca questa corrispondenza tu non leggi perché quel simbolo non sai che suono noi costruiamo la parola bene o male sai il suono lo ricavi se conosci le lettere lì quindi questa cosa della memoria è stata molto interessante il fatto della memoria come ho capito ho visto però ho tanti amici ne ho parlato cinesi ovviamente il senso di questa memoria che si manifesta in tante cose nella tradizione nel modo che hanno di rapportarsi con gli altri negli affari anche per esempio negli affari è una cosa bellissima ho fatto tante riunioni di lavoro così si parlava mai di lavoro si mangiava soltanto l'ultimo di 30 secondi in aeroporto prima di salutarsi allora qui si fa perché? perché il rapporto e questo vale molto oggi nel business tu venderai alle persone che ti amano alle persone che ti considerano amico non è più il tempo dei cartelloni pubblicità ripestrata o della come dire la pubblicità nei video vale più niente per fortuna perché possiamo tornare ad avere un rapporto vero e non pensare di come posso fregare l'altro per vendere le mie cose e quindi nella memoria c'è il fatto di memorizzare anche l'immagine quindi vedevo queste schiere di ragazzi nell'accademia che disegnavano che ricopiavano per esempio un ritratto fatto da un altro perfetto delle macchine meravigliose bravissimi perché per loro ha un valore quel gesto ok? noi diciamo che le cinesi copiano cioè bisogna capire che valore ha quella roba magari per loro è una cosa meravigliosa riuscire ad avvicinarsi a quella cosa là e è così almeno per quello che ho visto io nella mia frequentazione poi posso sempre sbagliare e quindi c'era questo riprodurre e riprodurre una cosa per cui poi io sono intervenuto e mi è stato chiesto di intervenire era quello di un po' scardinare questo meccanismo e dimostrare magari agli studenti qual era la differenza tra qual era la richiesta tra tecnica tecnica e sentimento voi immaginate che problema io cioè il mio inglese che comunque è un inglese che fatica perché non è non vive della quotidianità no? e con un traduttore cinese che io magari ogni tanto dico qualche parolaccia quindi lui rinterpreta un po' in modo suo per salvare la faccia e tu devi devi parlare agli studenti di questa roba qua e dimostrargli questo allora avevo immaginato di poter far fare un esperimento tecnico io ho tantissimi disegni fatti dai ragazzi ero un ragazzino pure io quando facevo sta roba oggi sono 36 anni ma insomma come dire erano coetanei ok poi lo facevo con i professori tra l'altro e quindi qual era il gioco? chiamavo un ragazzo di queste platee anche di mille persone perché le scuole non sono una classe sono classi enormi e quindi dicevo fammi il ritratto io l'ho visti che disegnavano benissimo ecco nel momento in cui gli chiedevi di farti il ritratto là si apriva un problema non era in grado di farmi il ritratto o viveva l'imbarazzo magari comunque usciva fuori una cosa che non era che non era quella era una cosa banale insomma si mi vergognava anche lui perché mi aveva mostrato altro un capolavoro allora gli dava un tempo limitato per farlo dopodiché dicevo ok va bene hai fatto quello adesso prendiamo un altro foglio ci facciamo il ritratto a vicenda ma non puoi mai guardare il foglio di carta ok quindi sai tu scrivi vedi no c'è questo siamo abituati a questo nel momento in cui tu togli quello succedono altre cose nella tua testa inizi inizi per motivi di sopravvivenza a trovare un modo diverso di comportarti e in pochissimi secondi dicevo devi fai quello che viene tu mi vedi un filtro muovi il braccio tu mi stai facendo il ritratto e quindi si faceva questa cosa poi dicevo stop e gli facevo vedere quello che avevo fatto io e lui e il suo tutti ridevano così però era entusiasta già si vedeva che era stato mosso qualcosa poi prendevo i due disegni che aveva fatto quello di prima e quello di dopo il primo gli dice gli mostravo tutti e due e dicevo quale ti piace di più ovviamente gli piaceva di più il secondo perché era Picasso là dentro c'era Picasso c'era tutta una roba incredibile che ce l'avevano loro ce l'hanno tutti ce l'abbiamo ma per motivi di tecnica e di insegnamento non erano mai uscite perché loro dovevano saper fare bene il ritratto no la copia quindi c'era un'altra parte che non era indagata e gli dicevo che cos'è questo e che cos'è questo allora questo sicuramente è la tecnica vedi tu con la tecnica che cosa hai fatto eppure sei l'ha studi da tanti anni eppure sei riuscito a fare solo questo con la tecnica sei arrivato qui e lì bene questo che è è altro non voglio dire che sia sentimento ma è altro è qualcos'altro che hai tirato fuori in quel momento ora questo c'è c'è anche questo il capolavoro che tu farai non significa dedicarti a questo o dedicarti a questo significa soprapporli quindi tu impegnati nella tecnica sapendo che c'è anche altro usala per dire altro ecco questa è una cosa che più che altro ho dovuto sforzarmi con me stesso per cercare di di mettere in modo un meccanismo di riflessione nuovo quindi è stato bello ecco quando tu mi dicevi viaggiare no capire l'ho capito delle cose l'ho capito su me stesso non so quanto rivoluzionario sia stato al di là del fatto che i ragazzi piangere sorridere in modi incredibili gli abbracci emozionare è stato molto bello quindi devo dire che in ogni caso viaggiare per uno che pensava di non voler non dover viaggiare nella vita è molto molto costruttivo dai dai che hai preparato delle immagini che chiudiamo così volevamo sottoporti qualche immagine di arte plastica scultura per vedere se c'era qualcosa che ci volevi raccontare a riguardo qualcosa che ci volevi dire sicuramente di interessante io partirei proprio dal Cristo velato il Cristo velato il Cristo velato tra come le altre alcune delle altre immagini diverse l'ho visto dal vivo anche da solo in un'occasione speciale in cui ero stato invitato dove era un video in cui parlavo di Cappella Sansevero è l'opera questo va detto è l'opera più semplice che si trova all'interno di Cappella Sansevero ce ne sono altre che sono dei capolavori di virtuosismo eccetera eccetera questa è l'opera più semplice che c'è la cosa spettacolare è duplice uno il fatto che l'opera è centrale e al di là dei racconti che vengono fatti è stato realizzato tra il set e giù queste cose non esistono ma la cosa incredibile è la qualità di un'opera che è stata fatta anche di fretta io ve lo posso confermare perché lo vedo dalla lavorazione dal modo in cui tante cose non sono state finite risolte io mi trovo ad avere problemi del genere quindi lo vedo lo riconosco è una cifra lo leggi come uno che scrive di fretta tu lo vedi che sta scrivendo di fretta tu sai quando scrivi bene e quando scrivi di fretta la stessa identica cosa quindi sicuramente con urgenza è centrale è un'opera lucidata all'infinito nonostante la finitura non fosse arrivata a quel livello giusto per poter passare le cere le patine quindi si leggono si leggono i graffi delle raspe sulla superficie è una raspa anche veloce e quindi illumina tutto il resto questo elemento di centralità ti racconta anche come poter comunicare bene un'opera metterla al centro di uno spazio che la decora che riverbera della sua immagine chiaramente la fa diventare ancora più l'elemento centrale e fondamentale dell'installazione e poi l'altra cosa eccezionale è la sua semplicità perché un'opera velata è stupefacente perché in realtà quando si scolpiva il velo no storicamente non è che era lo facevi per un esercizio di stile era per buttare in caciara perché tu col velo vai più veloce cioè copri le parti copri l'anatomia l'anatomia se devi fare un pet una faccia un ritratto tu devi deve essere somigliante Bernini sai quante quante volte veniva criticato i suoi ritratti perché li faceva su commissione con i ritratti che gli venivano mandati dall'estero fatti dai pittori e poi il committente non si riconosceva e ti credo perché non l'ha visto dal vivo ok quindi il problema del vero si manifesta sempre è complicato se tu copri la figura tu fai un gioco giochi con un effetto che è meravigliosamente funzionale in quanto tu dai la possibilità all'osservatore di mettersi nei panni dello scultore lo scultore è quello che vede le cose all'interno delle cose se le immagina quindi tu che cosa fai qui al contrario delle altre opere che sono chiaramente più retoriche celebrative le vedi e la riconosci ecco l'ho ritratto una faccia un angioletto c'è una rete qua no qua tu devi immaginare tu sai che c'è un Cristo lì e te lo immagini sotto perché è completamente velato quindi tu diventi scultore tu partecipi sai che l'attorno ci ha girato qualcuno non ci pensi ma interpreti il ruolo dello scultore che sta lì e vede dentro le cose se le immagina il grande privilegio è che ognuno immagina la sua faccia ognuno immagina la propria ok e lì la grande libertà la grande libertà della pietra grezza dell'infinito numero di forme possibili all'interno che sono le nostre quelle personali poi l'artista si assume la responsabilità di trarne una tra quel numero infinito però di base fa la stessa cosa quindi siamo tutti scultori in partenza all'inizio poi lui tira fuori il Cristo velato quindi questa è l'altra l'altra cosa meravigliosa il fatto che sia un'opera semplice quando dico semplice perché fare il velo è un effetto meravigliosamente ad effetto no che ti permette di andare molto più veloce non doverti non doverti focalizzare su uno la difficoltà è un'altra è quella di restituire la verità di un corpo abbandonato e coperto da un velo quella sicuramente è una difficoltà enorme che è data alla sensibilità in questo caso dell'artista che riesce a tradurre magnificamente un'opera che era stata progettata invece dal Corradini che moriva a 90 anni credo più o meno era molto anziano e l'aveva già progettata infatti c'è un modello identico fatto dal Corradini che ha anche dei putti quattro putti ai lati in terra che forse stava alla certose di San Martino non mi ricordo e quindi fanno questa cosa che è meravigliosa e tra l'altro non so se tu lo sai è sempre bello ricordare il fatto che questo velo di cui tu parli è un po' quello che gettò il seme del dubbio nel pubblico perché il San Martino che poi è il secondo autore che completa quest'opera venne accusato addirittura di alchimia cioè le persone lo accusarono di aver posto un velo di lana o di tela sopra la scultura del Cristo morto e poi averlo marmorizzato tramite un processo alchemico l'alchimia era quella antica pratica oscura di cambiamento del materiale del trasformare la pietra in oro eccetera eccetera perché il committente Raimondo di Sangro se non vado errando era un appassionato di alchimia aveva un grande studio di alchimia e quindi si era fatto questo collegamento molto particolare non c'è Cristo più di marmo di questo ma insomma capolavoro assoluto vai ne sceglierei ne scegliere un'altra vai 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 tu vado io ma a casa io sceglierei la scultura che ti permette poi di chiudere anche con una con una frase non lo so la nostra puntata di al dente speciale ma ora andiamo sugli Amarcord dove ognuno di voi due la può chiudere andiamo sull'Amarcord e chiudiamo senza lanciare il martello chi è questo io non ho idea è l'amore psiche del grande Canova oggi conservata in Francia purtroppo a Louvre che comunque vabbè come dire sono sanno amare innamorarsi e conservare magnificamente in luoghi strepitosi le opere anche che in periodi storici sono state destinate o dico per un altro no predestinate a a viaggiare come la Gioconda che ricordiamolo appartiene legittimamente alla Francia per esempio perché fu donata le opere le opere sono del mondo le opere sono sempre del mondo sai questo poi se ne parla sempre sempre a posteriore l'Italia dovrebbe innamorarsi no e fare un ragionamento a livello di investimento sui giovani artisti non su di me tutti quelli gli altri tutti per capire con un occhio un po' un po' clinico quali sono le cose che forse è bene mantenere no tenerci perché poi sono quelle cose che faranno parte del nostro bagaglio culturale in qualche modo e questa è una di quelle cose che chiaramente doveva stare altrove e Canova che è un genio assoluto qui riesce a creare una figura che poi quando la vedi ti rendi conto di come lui avesse questa capacità unica di riuscire ad organizzare le figure nello spazio in maniera profondamente simbolica e funzionale cioè quando tu vedi quell'opera c'è armonia chiamare neoclassica questo modo è anche svilente perché è talmente unico che che è soltanto nuovo cioè non c'è nient'altro che c'è totalmente la novità poi qualcuno se la prenderà con me per quello che ho appena detto ma io da ignorante posso davvero ignorante da quello che fa ignorante posso permettermi questa cosa però ecco quello che a me sconvolge è la sua capacità di riuscire a capire esattamente qual è la forma giusta da dare le cose questa è una grandissima lezione di comunicazione oggi tutti i ragazzi che studiano design e fanno i loghi dovrebbero studiare come il Canova riusciva a creare una composizione perfetta che era fatta di equilibri miracolosi che sono poi cose che ti rimangono e tu non puoi non ricordarti magari non ti ricorderai chi l'ha fatta non ti ricorderai il nome però a volte la vuoi tatuare su un braccio per dire capito oppure hai bisogno di stampartela e mettetela a casa o fartici il selfie per esempio per testimoniare a te stesso e dire c'è qualcosa probabilmente io associato a questa roba qui supererò la prova del tempo perché queste sono cose destinate a superare la prova del tempo e noi dobbiamo soltanto guardarle con riverenza e profondo amore perché ci riguardano perché siamo noi direi che ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni grazie a voi e anche a te Fabrizio per avermi supportato per avermi supportato per avermi supportato grazie a tutti